Benvenuti su Gossip Globe. Prima di continuare, ricorda di mettere un like. Seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. È scattato il bacio. Colpo di scena al Grande Fratello 2024. Dopo giorni di tranquillità apparente, esplode la passione. Tutto è accaduto durante il gioco della bottiglia, ma c'è molto di più dietro. Shaila Gatta è al centro di un triangolo amoroso con Avier e Lorenzo. Avier ha confessato la sua forte attrazione per Shaila, aumentando la tensione tra lei e Lorenzo. La situazione si fa sempre più complessa. Durante una recente puntata, Shaila ha rivendicato il diritto di flirtare liberamente, dopo esperienze passate difficili. Ha avuto uno scontro con Beatrice Luzzi, che ha condiviso un approccio simile nella scorsa edizione. Avier, dopo aver ammesso la sua cotta per Shaila, ha partecipato al gioco della bottiglia con lei. Il risultato? Un caloroso bacio che ha fatto esplodere l'entusiasmo tra i concorrenti, sottolineando la loro alchimia. Le reazioni dei concorrenti sono state diverse. Alcuni hanno applaudito la coppia, mentre altri hanno sollevato dubbi sulla sincerità dei loro sentimenti. Shaila sembra prendere le distanze da Lorenzo, che si mostra geloso. Questo bacio potrebbe rappresentare un punto di svolta nella narrazione del reality. La relazione tra Shaila e Avier potrebbe evolversi, mentre Lorenzo lotta con la sua gelosia e possessività. I fan del programma si interrogano sul futuro della situazione. La storia tra Shaila, Avier e Lorenzo è al centro dell'attenzione, lasciando tutti in attesa del prossimo colpo di scena. Gli spettatori sono divisi tra chi supporta la nascente coppia e chi è scettico sulla loro sincerità. Il bacio ha sicuramente cambiato le dinamiche della casa, creando nuove alleanze e rivalità. Il Grande Fratello 2024 continua a sorprendere, mantenendo alta la tensione e l'interesse. Cosa accadrà nella prossima puntata? Non ci resta che aspettare e scoprire come si evolverà questa storia intricata.